6 novembre 1494. Nasce Solimano I, detto il Magnifico. Combattente spietato e protettore degli artisti, è il protagonista assoluto dell'epoca d'oro della storia dell'arte dell'Islam. Durante il suo regno, l'impero ottomano giunge a comprendere un immenso territorio che si estende dall'Ungheria all'Algeria. Poeta, appassionato di oreficeria e artista egli stesso, l'ombra di Dio sulla terra, come viene chiamato, incoraggia tutte le forme d'arte, espressione di Allah.